Questa è la piana degli orsi. Adesso vediamo se riusciamo a vedere qualche orso. La piana degli orsi. L'anno scorso abbiamo visto due orsi che correvano. Ecco il fuoristrada in difficoltà, vedo una ruota ferma, blocco solo dietro, blocco su quattro ruote, prima difficoltà, ci vuole un po' di velocità. Torna dietro. Eh ma la strada era quella? Sì, sì, è questo, è questo dove sto andando, lo so. Ecco, ci prende un po' di velocità. Vediamo che cosa succede. Vediamo che cosa succede. Niente. Non c'è modo da salire. Non c'è modo da salire. Adesso proviamo noi. Se là ci sta, eh. Eh ma se vai con la terza veloce. E blocco di serbo dice? Solo dietro. Blocco dietro e terza veloce. Ora se lo so non si sposta. No. Vai a vedere dietro che c'è il carmine. Sì. Prova, prova tu, passa di là. Prova tu. Passo di là? Sì. Prova con la terza. Non sta a provare lui. Di là? Vai, vai, vai. Vai, aspetta. Se lui si mette di lato. Io volevo provare di sopra. No, no. Dove sta a passare qua. Dove sta a passare? Alla terza, è giù? Sì, sì, sì. Vediamo un po' di strada in panne. Se ci fa strada. Non è in panne però non ci fa. qua non lo so ci stanno le piede ecco se lui si mette di lato vai aspetta ecco se lui si mette di lato se si mette di lato proviamo eh con la pezza che dici qua? ma proviamo eh proviamo se ce la proviamo se ce la facciamo eh mi chiedi qua con la testa ecco qua il defender eccolo qua eccolo qua eccolo qua è fatto è fatto è passato è passato ecco qua l'audista l'audista abbiamo detto l'audista lo vedete tutto impegnato della guerra atomica qua